È iniziato il periodo dei funghi, cercatore infortunato stamattina nella zona di Archia. La stazione Valgrande del soccorso alpino X Delegazione Valdossola è intervenuta in supporto dell'elisoccorso che ha avuto qualche difficoltà ad individuare l'infortunato a causa della fitta boscaglia. Il fungiat scivolato si era fratturato una gamba ed è stato ritrasportato all'ospedale di Verbania. Come ogni anno la raccomandazione di recarsi nei boschi con abbigliamento e scarpe adeguate, meglio se in compagnia. Sempre in tema di sicurezza, a disposizione il servizio gratuito di micologia dell'Asla VCO. È importante distinguere i diversi miceti e riconoscere quelli da servire a tavola da quelli non commestibili. È possibile rivolgersi agli uffici Asla di Domodossola, Omenia e Verbania. La sede del distretto sanitario di Domodossola in via Scappaccino 83 è aperta il lunedì e il mercoledì dalle 8.45 alle 9.15 e il venerdì dalle 14.30 alle 15.30. Per gli uffici di Omenia e Verbania è invece opportuno richiedere un appuntamento al numero 0323 54 14 41 per Verbania e allo 0323 86 80 40 per la sede di Omenia. Si ricorda infine i funghi utilizzati nei ristoranti devono essere sottoposti a certificazione per la sicurezza di tutti i consumatori. Per la cronaca il soccorso alpino è intervenuto oggi nel pomeriggio anche a Bognanco, sempre in supporto dell'elisoccorso presso un rifugio Gattascosa per soccorrere un ragazzo di 13 anni che accusava forti dolori allo stomaco. Il giovane è stato elitrasportato aldea dell'ospedale Castelli di Verbania.